Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Gamico7 e benvenuti in questo nuovo video Reaction. In questo video rilasciremo ai video dei momenti divertenti, ma allora ti passi fuori di testa con la Nutella Bisquiz. Ragazzi in questo video ho pensato di reagire ai video TikTok con la Nutella Bisquiz, quindi ho pensato, ma mentre sono con voi mi posso gustarmi questa Nutella Bisquiz. Ragazzi questa Nutella lo voglio, lo vorrei gustarvelo con voi ragazzi, volevo gustarvelo già a voi, assaggiarlo per vedere com'è, infatti ragazzi proviamolo insieme questa delizia qua, ma hanno una aspetti deliziosi gli aspetti. Ecco, uno, due, tre. Tanto buono ragazzi, tanto buono. C'è, è uno spettacolare, mica non c'è la Bisquiz, l'altro, ma non c'è la Bisquiz. Allora, non c'è la Bisquiz, ma non c'è la Bisquiz, ma non c'è la Bisquiz, ma non c'è la Bisquiz. I'm sorry, I only took a little, I swear, I only took a little. So many things to do, each day is something new, I'll share. Hey Chris, can you crack my back? Sure, I got you. No, I'm done. Sì, 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 sì. come in no no no... io ho il tumore che è spazziamo io ho il tumore che è spazzita va bene, che fa? Ma uno no? E' così giocata da mettere un mezzon? Noi di si fucuola nel frigorifero? No perché è una cosa un po' disastrosa devo dire E' che faccio E' disastrosa già come che fai lui Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Lucas! Can you come kill this spider in the kitchen for me? It's under the cup You want me to kill it? Yeah Why are you coming? Because there's a spider in the cup. I want to see your reaction Careful No, no, no Wow Sì ciao Hey, how are you? Hey, I brought my friend Nathan with you. Hey, what's good? Oh, you. Wait, let me show you something really cool with your phone. I was talking this morning. I know, it's super cool though. You're not going to miss it. What? Hyphen, 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 hyphen. Stop! Have fun! What the heck, you restarted? Have fun! Have fun! BOOM, bum, 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 bum. I want you to see one on one. BOOM, bum, 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 bum. I don't know whether this is a lot of time. Let's send it out to our match commentators, Simon Brotherton and Stewart Robson. non 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 che la ganna si come che la cazza e che per lo che non 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 ah non 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 She thinks she's hot or not? Does she wear a fake tan just to make out with your man? Does she chase on it? Did he tell you about that? What? I'm making a TikTok account, goodness. You just told me. Oh, cherope! Hai te le ha seticino o Forga? Sorry. Questo è il metodo per spiegare i soldi al vostro amico o amica. No, si contano i kick-ups, ma io mi sto contando i signori di Lucella Biffus, quindi i Lucella Biffus sono più buoni del kick-up. Oh, sembra. Sì, 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 sì No, che schifo No, che schifo No, si è mangiato la casca del... La casca del l'oro Si è mangiato la casca del piccione Pensando a fare un gelato Non c'è mangiato la casca del piccione segando. Ok ragazzi, che è basta, questo video lo fico pure qua, io che adesso ho già mangiato un cazzo fili di lucella a biscuit, e mi sa che dopo il video avrò la...una...un le... Quindi ragazzi, il video lo fico pure qua, vi asco magari a che commenta il prossimo video, fare questo video vi sia presunto, e speriamo che non vi asco schifo. Ragazzi, quindi se so, se su Instagram, su Facebook, su Gemsn, e su TikTok, ovvero...ovvero questo, poi ragazzi, la nutella Black, perché comprando sia nei negozi, sia nei supermercati, anche su Instagram, adesso volevo. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, e ciao ragazzi! Ciao! No, 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 no.